E come viene la nomina dell'amministratore di sostegno? La nomina dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal giudice tutelare e la richiesta può essere avanzata dal malato stesso. Quindi può farla? Sì, certo può farla, ma può farla anche il coniuge, il convivente, anche i familiari entro il quarto grado, oppure gli affini entro il secondo, anche il pubblico ministero. Una volta presentata la richiesta, il giudice tutelare emana un provvedimento, un decreto con il quale vengono individuati gli atti che l'amministratore di sostegno compie in nome per conto dell'amministrato e gli atti che invece possono essere compiuti dall'amministrato, quindi in questo caso dal malato, necessariamente però con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Tutti gli altri atti che riguardano in qualche modo la cura degli interessi della vita quotidiana, come può essere andare a fare la spesa ad esempio, o più in generale gli atti che comunque non sono espressamente previsti dal provvedimento del giudice, possono comunque essere compiuti dal malato personalmente. Il malato però che ricorre all'amministrazione di sostegno deve trovarsi in una particolare condizione, nel senso che deve appunto trattarsi comunque di un soggetto che anche temporaneamente o parzialmente non è in grado di curare appunto personalmente il proprio interesse a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica che glielo impedisca. Per cui l'amministratore di sostegno è una figura che sostanzialmente affianca, supporta il malato in questo caso. Il procuratore invece viene nominato con un atto che viene compiuto dal notaio, quindi normalmente ci si rivolge a un notaio di fiducia e il procuratore svolge poi il nome per conto del malato o la generalità degli atti che riguardano la sfera di interessi del malato stesso e allora parleremo di una procura generale, oppure il il procuratore può anche essere nominato per compiere uno o più atti determinati come ad esempio la vendita di un bene immobile che può essere appunto compiuta quindi dal procuratore in nome per conto del malato. La procura speciale, a differenza di quella generale, però cessa di produrre i suoi effetti nel momento in cui l'atto o gli atti oggetto della procura sono stati posti in essere, per cui ad esempio appunto nel caso di una vendita di un bene immobile, una volta che la vendita è stata compiuta e andata a buon fine, la procura cessa di produrre i suoi effetti e in ogni caso non è impedito al malato che abbia nominato un procuratore di compiere comunque gli atti personalmente, insomma anche quelli oggetto della procura.